allora sono qui con solido e adesso siamo qui con la linguetta ho provato a fare lo sformo ok e nel senso piano neutro non so 27 gradi la faccia però lì le facce che voglio sformare sono queste gli dico ok adesso vado a riattivarlo mi sforma all'interno e se lo voglio all'esterno mi sforma l'esterno così ok e vado e lui mi sforma non succede la stessa cosa se invece uso non fa la stessa cosa o meglio fa a metà se invece non vado a fare con i gradini con da sempre fare sformo scusate i gradini con la linea di divisione io prendo la linea divisione e dunque vado a prendere questo qua direzione di trazione prendo questo questo qua allora questo punto 27 gradi e lui me l'allarga però non riesco a facendo la stessa cosa non te lo fa con perché mi dice le facce di sformo non possono essere perpendicolari alla direzione di trazione le facce di sformo perché no perché io in questo caso qui non gli ho detto che faccio sono mentre con il piano neutro io gli dico cosa che faccio e da sformare dunque lì non capisce probabilmente quello lì da vera solo una curiosità io ho sempre pensato linea di visione fosse il top però certe volte si vede non funziona dunque bisogna fare col piano neutro vabbè ci vediamo alla prossima vi vede oggi